La guerra in Ucraina pone l'Unione Europea davanti a una delle più gravi crisi della sua storia, una crisi che è insieme umanitaria, securitaria, energetica, economica. La guerra in Ucraina ha avuto... La guerra in Ucraina ha avuto molto semplice. La guerra in Ucraina ha avuto molto semplice. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.